Ragazzi, acculturatevi, acculturatevi Ciao Aiu, sono Abomerano e sto per fare il sentiero dei dei, ma prima facciamo un passo indietro Ho sempre avuto questo quadro a casa che ritrae uno dei posti più belli del mondo, Positano Ma in realtà io non l'ho mai vista, quindi l'altra sera mentre ero al pc ho pensato Ehi, ma ci sarebbe il sentiero dei dei che è arrivato in Positano Quindi ho fatto uno più uno doppio sullo zaio, ci ho messo dentro l'indispensabile e sono partito Solo immaginando cosa avrei visto Sicuro la cupola alla fine del sentiero Siamo partiti per sentiero dei dei e la prima svolta è quella alla sinistra del dici Cioè, ah boh, comunque la sinistra Perché a destra si allunga in realtà Stiamo facendo il sentiero dei dei d'inverno L'inverno qui al sud, soprattutto in Cossia, lo sapete che è relativo Quindi non è che fa particolarmente red oggi Oddio, fu così che le ultime parole famose venne il diluvio universale Per il sentiero degli dei di là Partendo proprio dal sentiero degli dei da quella strada sospesa di un magico golfo delle sirene Sulcato ancora oggi dalla memoria e dal mito Grazie Andrea di averci letto questa grazie Siamo all'inizio del sentiero degli dei ma le vibes sono proprio positive Cioè, veramente è stupendo È un trekking in pratica Avete visto il video sul sentiero dei limoni? Sicuramente se state guardando questo Se non l'avete visto andate a vedere E avevo detto che se mettevate like No, fa sentiero dei dei Adesso se mettete Facciamo 70 like Tento like Vado a fare il cammino di Santiago Cazzo, ve lo mettono mille Guardate qua che bello Fantastico Bello di fare video così E che Cioè, tu puoi parlare cazzo Puoi dire pure cose stronzate Poi alla fine Se esci male Non lo pubblichi Cioè, tipo adesso Sto registrando Ma se Non verrà pubblicato Non l'ha rispettato Ah, ma questa cazzo è qua Qua Ma tu sapevi che Clinton è venuto qua Clinton Viene qua a sentire dei dei E disse Ma questa cazzo è proprio Cioè Fa paura Ah, vabbè Spettacolare Guarda qua Davaio ma Cioè, vedi Non ti rendete conto Boh Altro mondo Fa paura Ma quanto è Ma quanto è bella la campania Ma quanto è bella la campania Guarda giù Vabbè Abbiamo finito il video Si conclude qua Giusto Ma ci stanno tipo questi 3000 scalini Per Noi andremo a Positano Ehi Ciao E' un'ora praiano A me come vuoi Che Pa Quanto è bello Ma non siamo Gli unici pazzi Oggi Il Che giorno è oggi? 5 dicembre 6 Siamo i unici pazzi a dicembre A fare il sentiero dei dei Ci abbiamo incontrato Anche altri ragazzi Lo facevano Giustamente Con questa giornata Raga Fa caldissimo Cioè Sto con la felpa E sto pensando Di togliermi La Carolina Che fa mani che corte Giusto Fa caldo A dicembre Si bella pazzi Comunque Fantastica Panorama Come sarà il titolo del video? Il sentiero dei limoni Era il panoramico Sentiero dei limoni Invece il sentiero dei dei Gas Gas Sentiero dei dei Wow Il wow Sentiero dei dei Il magnifico Sentiero dei dei E cosa è collegato Agli dei Il sentiero dei dei Da fare assolutamente Proprio nella vita Ma che bella Che bella È la costina C'è Che Fatto tattica Foto Con il panino Fantastica Panino 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 Invece Questo è Spuntino premio Spuntino premio Che Ieri Stavo buttando Nello zaino Che ho preso Si può fare Il video Con una mano Grande Panino Con Panino Della signora La pezzetta Da gerola Con Fior di latte Da gerola Vai Fior di latte Da gerola Spettacolo Avete mai mangiato Il fior di latte Da gerola Massaggio Per voi Tempo La paura Panorama La paura Panino Ho detto Già La paura Con il fior di latte Da gerola Chiedetemi Che sono felice In pratica Spettacolo Ma c'è questa casa Un po' Mezzo abbandonata Sono sentito di te Ma secondo me È la casa più bella Della costiera Guardate Ma che Che padronama C'è Questa Che c'è andato Ah Clinton Questa Questa è la casa Che Clinton Disse Andre Ma vuoi accattare C'è allora Praticamente Troppo bella Sua storia Una storia vera Venne Clinton In costiera Amalfitana E disse A bu Andre Ma tu è che Ho visto Salerno Cosa posso fare Ho detto Bill Ma non è che Avete sentito Degli dei Portati A scattare Gino Sicuramente Perché è una Cosa bella In Ciampi Non è che Presidente Non è cosa E lui Ti fece sentito Degli dei Molto bello Molto bello Ma vedi Vide sta casa E disse Andre In sta casa Ma già accattare E infatti C'è la storia Del contadino Vedate Di questa casa Che disse A me non mi interessa Che tu Ti chiami Bill Clinton Può essere Presidente Gli Stati Uniti Ma io sono Presidente Gli Stati Uniti Non mi interessa Ma voglierà Infatti Mi ha la venduta Stai ancora il contadino Stai ancora il contadino Dentro No dove va andare Ragazzi Acculturatevi Acculturatevi Stai bene Siamo Aspetta Ma dove Ma dove Stiamo andando Ce ne stiamo andando Da lì Devo arrivare là Qua sotto Non c'è Cioè Non si passa A parte qualche piccolo Sentino Per le caprette E qui Non è che questo Ci porta sui monti Ma non Io già feci un sentino Direi sbagliato E siamo persi sui monti Qualche anno fa Sei una brava guida Iniziano ad esserci delle discese Vediamo se questa sarà La strada giusta Accurta Andò Un po' male che va Piamo i legni Ci accampiamo Possiamo fare tipo Una puntata Bell Grills YouTube Capite C'è Mandea Sand Grills Quello è Positano Ok Ah manca poco Fondamentalmente Ma questa sembra Una classica strada Per Positano Chissà che stiamo andando Bene Positano Mi sono messo il cappuccio Davvero Fivone Perché Rimorso Perché ho sentito Un morso Dolorosissimo Alla nuca Adesso Ci sono sottotto Tutto quanto Non ho trovato niente Però Un po' col cappuccio Obbligatorio Siamo arrivati A questo punto qui Dove dice Positano 5 km Ok Fino a queste staccionate Non l'avete visto Perché non ho fatto video Ci sta Un bel percorso Di roccia Sassi Sentire un poco Faticoso Si presume Che adesso Il sentito Sarà Sarà meno faticoso Perché ci stanno Queste staccionate Si presume Questa Deve essere Nocelle Nocelle Come ho detto Quella signorale Che abbiamo incontrato Per strada Bellissimo La cosa che vanno in comune Sentivoli di comune Sentivoli di idee Sono i gatti Bello Si è messo qua A guardare la porta Tu Che problema Di chiosco E sentito di idee Buongiorno Può fare Può fare Può fare Caffè Posso vedere Pane roma Pazzesco C'è Va buia Oh ma Ti vedi un caffè Qua Ma io Posto più bello Dove prendere caffè Al mondo Siamo al chiosco Nel centro dei dei Sono le tre In realtà Un caffè Una limonata Pure ci sarebbe Più del caffè Come è il caffè Tachicardiaco E ora siamo entrati In questo chiosco Sul centro dei dei Ma Limonata Top Spettacolare Amarissima Ovviamente tipica Della costiera Un po' Si Non fa paura Ma immagino Se solo ci fossimo Fermati Un po' Pi' indietro Non avremmo mai visto Questa bellezza Ma tutta C'è Ma Ma io Ho visto Ma C'è Ma C'è Ma C'è Ma Never Never Back down Nella vita Never quit Ma Ma Facciamo Lo faccio rivedere Perché forse non avrete capito C'è la bellezza C'è la bellezza E' La bellezza E' Brava finita Invece Scalini infiniti Stanno distruggendo le cosce C'è Che per forza Deva affrontare così Vedi Che ultime scale la relazione è caldo sape morì ecco la piccola mappa sintetica del Sintero di dei siamo ad Arienzo dobbiamo andare a Positano va bene è importante che abbiamo finito le scale comunque siamo sulla strada farò tutto il possibile ci abbiamo fatta quella è Positano stiamo arrivando on the road è bellissima questa veramente andami stiamo andando a Positano a piedi tosta tra poco facciamo i pro e i contro del Sintero di dei estate come un altro poco tra i contro sicuramente i scalini piccolo spoiler bello io ma comunque ma che bell'è la Positano ma che stiamo un altro mondo un altro mondo questo abbreveratorio gratuito dono di Lady Bambury fu costruito ed è mantenuto a cura della lega italiana per la protezione degli animali Positano città romantica raga siamo arrivati a Positano adesso sto cercando la panoramica più bella per fermarmi e farvi vedere però dove siete anche la cupolona del divinto ma comunque la strada è stupenda è troppo bella troppo bella veramente raga siamo arrivati a fine del Sintero di dei teniamo le somme quindi come pro e i contro il Sintero di dei sicuramente pro e che ti immergi se col Sintero di dei momenti ti avevo detto che ti immergevi nella cultura della costiera col Sintero degli dei ancora di più maggiormente pure perché parti da Bomerano e arrivi a Positano ma qui ti immergi totalmente nella cultura della costiera ed è stupendo sono dei tratti di puro trekking nella montagna che ti fanno sentire vivo comunque ti fanno passare magari quella noia che potresti provare in una routine da città come contro ci sanno che ci avevo messo cinque ore siamo partiti da Bomerano e siamo arrivati a Positano in cinque ore però è un contro relativo perché alla fine la bellezza non sta tanto nell'arrivare vediamo ci mettiamo la musicetta filosofica sotto non sta tanto nell'arrivare a Positano quindi non nella destinazione ma in tutto il percorso in tutto il viaggio appunto consigliatissimo da fare assolutamente siamo arrivati giusto all'orario di tramonto il signore che si può sentire che stiamo parlando quindi è bello consigliatissimo fare assolutamente questo intero di vitae ma come cazzo per me ed eccola qui raga Positano visto da sopra come nel dipinto che ho a casa solo che stavolta mi sono mosso e sono andato a vederla di persona vivendo una giornata bellissima e piena di emozioni perché se non la prima ma adesso sta vita quando lo dobbiamo fa? Siamo a 30 quando abbiamo fatto il signore di vitae a dicembre boh l'avrebbe detto a dicembre il signore di vitae a dicembre no di avisare puntino premio cioccolata nuovi sponso l'ufficiale di questo video a dicembre